E' una partita apertissima quella relativa alla vendita di accioglierie d'Italia e nonostante la mancata presentazione della manifestazione di interesse nel primo termine stabilito del 20 settembre, il gruppo ucraino Metinvest ha riaffermato il proprio interesse all'acquisizione del gruppo siderurgico, rientrando nella fase delle offerte direttamente vincolanti, ma con due condizioni, la partnership con un gruppo italiano e il coinvolgimento dell'intero territorio. Parole di Yuri Ryzenkov, amministratore delegato di Metinvest, in un'intervista al sole 24 ore, ha detto continuiamo a guardare a tutte le opportunità, Alex Silva non è la nostra priorità, ma resta un dossier interessante. Non riteniamo opportuno però formalizzare un investimento da soli, ci piacerebbe rientrare in partita più avanti, magari con un partner italiano. Finora si è sempre parlato di una potenziale partnership con il gruppo cremonese Arvedi, può esserlo chiunque, ha detto Ryzenkov, non abbiamo preclusioni. Il gruppo Metinvest è uno dei pochi ad aver effettuato un sopralluogo allo stabilimento di Taranto, l'intero assetto anche all'interno del quadro locale e nazionale, è stato esaminato con attenzione. Ho visto grandi opportunità nel porto e nelle potenzialità impiantistiche, anche in ottica green, ma servono molte risorse e coesione, ha concluso Ryzenkov. Non è possibile portare avanti questo investimento da soli, servono partner finanziari e industriali, un ruolo per il governo, il coinvolgimento della comunità locale e dei sindacati.